Oroscopo del giorno sabato 27 gennaio 2024 Ariete Amore, un ultimo sabato di gennaio che non sarà proprio pieno di emozioni piacevoli in quanto la posizione di Venere non si troverà favorevole. Lavoro, Mercurio, il Sole e Marte in posizione sfavorevole non vi daranno solo problemi lavorativi ma anche tanta stanchezza. Toro Amore, un giorno in cui potreste rilassarvi a pieno con la vostra dolce metà. Anche se per oggi non sono previste delle novità amorose, potrete comunque godervi i vostri rapporti personali all'attivo. Lavoro, Giove e Mercurio saranno in posizione attiva. Qui potrete avere delle grandi aspettative. Gemelli Amore, una meravigliosa giornata ricca di emozioni forti, positive, anche nuove. La posizione di Venere sarà assolutamente favorevole. Dunque questo potrebbe rivelarsi un sabato davvero buono, pure per chi è ancora singolo e vorrebbe incontrare qualcuno. Lavoro, potreste riuscire ad avere dei buoni recuperi lavorativi per quest'oggi. Cancro Amore, problemi su problemi potrebbero esserci durante questa nuova giornata di fine mese. Purtroppo con il partner o una persona a voi vicina non ci saranno affatto buone nuove ma, al contrario, diversi imprevisti complicati da dover risolvere. Lavoro, maluccio andranno le cose anche sul posto di lavoro. Dovrete cercare di impegnarvi in un progetto che veramente vi sta a cuore. Leone Amore, Venere non sarà favorevole durante questa giornata. Un sabato di fine gennaio che purtroppo non vi porterà della grande passione, dei grandi incontri, degli equilibri importanti e piacevoli nei rapporti. Lavoro, professionalmente questo sarà un giorno che potrebbe portare novità ma dovrete fare una certa attenzione a giove ancora sfavorevole. Vergine Amore, i sentimenti saranno assolutamente favoriti quest'oggi così come le emozioni, i rapporti. Un bellissimo sabato per godersi le relazioni oppure le nuove conoscenze di chi è single. Lavoro, mercurio sarà in una buona posizione, potrete ricevere buone nuove in ufficio. Bilancia Amore, la posizione di Venere durante questo sabato di gennaio non sarà favorevole. Con i vostri rapporti dovrete tenere una certa attenzione per non avere delle ripercussioni negative con la persona a voi vicina. Lavoro, qualche problema potrebbe presentarsi anche sul posto di lavoro ma se sarete liberi potrete provare a riposare e ricaricarvi un po'. Scorpione Amore, il pianeta dell'amore non vi deluderà per nessuna ragione oggi. Venere sarà infatti in posizione attiva e favorirà tutte le storie, nonché anche le nuove conoscenze dei single. Lavoro, giove continuerà ad essere in opposizione quindi dovrete gestire bene quest'aspetto. Sagittario Amore, non un giorno di fine mese con una Venere in congiunzione. Purtroppo non sarà una giornata troppo interessante per i sentimenti. Non avrete un grande romanticismo. Lavoro, energie decisamente alte e tutte da poter sfruttare durante questo sabato. Capricorno Amore, una Venere nel segno vi permetterà di vivere una giornata piena di buone situazioni amorose. Per i sentimenti potrebbero esserci passi importanti e bei colpi di fortuna. Lavoro, buone nuove professionali più che probabili durante la giornata di oggi. Marte e Mercurio saranno infatti in congiunzione. Acquario Amore, i sentimenti e le emozioni non saranno al centro dell'attenzione in questo giorno di fine mese quindi attenzione ad alcuni aspetti. Purtroppo Venere non sarà in grado di portarvi novità positive per i rapporti. Lavoro, chi lavorerà quest'oggi potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con alcune problematiche. Occhio Pesci Amore, un nuovo giorno positivo per l'amore con una Venere in ottimo aspetto. I sentimenti non mancheranno certamente durante quest'ultimo sabato del mese in corso. Lavoro Tutto ok sul posto di lavoro dove potranno esserci alcune novità. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie